cari amici ciao a tutti oggi parliamo di libri nella edizione di speciale libri dove ogni tanto vi racconto di qualche libro che a me in particolare piacciono tantissimo e che secondo me dovrebbe stare nella libreria di tutti quanti e oggi in particolare andiamo a vedere il libro piloti di se stessi del comandante clemente ingenito un libro fantastico ovviamente ma che è un libro secondo me doppio cioè nel senso che innanzitutto per gli appassionati di aviazione è una storia affascinante perché racconta le vicissitudini del comandante ingenito quando lui pilota della marina militare italiana andò negli stati uniti per addestrarsi e quindi ci racconta tutta la storia del suo addestramento l'addestramento sulla portaerei perché lui poi ha acquisito l'abilitazione per atterrare sulle portaerei che è probabilmente l'attività più difficile più complessa più rischiosa anche che un pilota possa svolgere e poi la parte dell'addestramento sull'arrier che ha svolto con i marines sempre negli stagioni di prima poi di trasferirsi e tornare in italia e quindi per chi è appassionato di aviazione conoscere la sua storia ma soprattutto la parte umana le sue emozioni le sue sensazioni che il comandante ci racconta in maniera esemplare ci veramente entri proprio dentro la sua testa dentro le sue emozioni a leggere il libro infatti come vedete l'ho letto tantissime volte la copertina è già rovinata perché ogni volta c'è qualcosa di nuovo di interessante di appassionante che scopro anche perché come vi dicevo un libro doppio perché secondo me e non solo me insomma è proprio così il libro è una fonte di ispirazione incredibile per che cosa per decidere di mettersi in gioco cioè vedete il secondo titolo dice qualsiasi obiettivo ambizioso si raggiunge con un primo passo cioè decidere di mettersi in gioco che è una cosa molto molto difficile da fare tantissime persone hanno proprio questa difficoltà cioè di iniziare di buttarsi di provarci magari la motivazione c'è la forza di volontà ci sarebbe pure però hanno questa paura nel fare il primo passo che è una paura per carità condivisibile però troppe persone insomma si sente a volte anch'io sono stato nella mia esperienza anche di pilota tante persone che ti dicono tanto è impossibile tanto non si può fare tanto non è impossibile non è sempre così anzi il coraggio di fare il primo passo è una qualità importantissima molti per esempio hanno anche paura di fallire per esempio è chiaro ci sta però alla fine dei conti quello che importa in futuro è il rimpianto magari tante persone che hanno il rimpianto di non averci neanche provato che piuttosto è meglio dire ci ho provato non ci sono riuscito per mille ragioni e ci può stare anche insomma però quella cosa di non averci non neanche fatto il primo passo non aver neanche avuto la possibilità di tentare questo è un rimpianto che poi ci si porta dietro e che potrebbe essere molto pesante il coraggio c'è un capitolo appunto dedicato al coraggio che è uno dei capitoli più belli del libro è ovviamente fondamentale ma la parola coraggio il significato della parola coraggio è spesso confusa è spesso c'è proprio una si dà un significato sbagliato alla parola coraggio e infatti ce ne parla appunto nel capitolo e ve lo voglio raccontare con le parole del comandante ingenito che ci dice che cos'è il coraggio questo non vuol dire il coraggio non vuol dire prendere rischi stupidi o fare delle bravate semplicemente significa scegliere di vivere con la possibilità di avere delle speranze invece di essere sopraffatto e paralizzato dalle paure e poi continua dicendo purtroppo è altrettanto vero che si incontrano spesso delle persone che cercano di fermare o di scoraggiare il cammino verso il successo ma sono proprio quelle persone che non hanno avuto il coraggio di andare avanti o che si sono fermati davanti a un limite perché quante volte appunto le persone che ci dicono ah no ma questa cosa non la puoi fare è impossibile ma per te forse è impossibile tu forse non la puoi fare io magari la posso fare poi magari sbaglierò poi magari non ci riuscirò però intanto io ci ho provato e nel cercare di trovare il coraggio di fare il coraggio di raggiungere i propri obiettivi non dobbiamo mai dimenticarci che il gioco di squadra è fondamentale che non dobbiamo necessariamente percorrere la nostra strada da soli anzi noi purtroppo questa è una cosa che ho già raccontato altre volte a scuola in Italia siamo abituati sin da piccoli a essere delle singole unità indipendenti perché ognuno studia per i fatti propri ognuno fa il proprio esame la propria interrogazione e quindi cresciamo con quest'idea che siamo da soli che siamo unici e poi quando entriamo nel mondo del lavoro ci accorgiamo che invece dobbiamo lavorare spesso in squadra in team e l'unione fa la forza poi e se i vari elementi della squadra non svolgono il proprio lavoro col massimo della propria capacità intensità passione è poi tutta la squadra che ne risente e questo poi in particolare il libro del comandante ingenito si rivolge infatti anche proprio alle aziende con degli esempi specifici perché anche nelle aziende cosa succede purtroppo spesso lo sperimentiamo tutti quanti e in particolare anche nelle compagnie aeree dove ho volato che il successo dell'azienda e della compagnia aerea è quando tutte le persone tutti i dipartimenti lavorano con lo stesso obiettivo invece cosa succede a volte che alcuni dipartimenti magari cercano di avere dei vantaggi solo per loro anche a scapito degli altri e quindi questo può essere un vantaggio momentaneo che poi alla fine però tutti quanti ne paghiamo le conseguenze insomma e quindi chiaramente il comandante ingenito lavorando in una porta aerei in cui se il team se tutti quanti i componenti della porta aerei non svolgono il proprio lavoro ma tutti quanti è chiaro che le operazioni non possono essere portate avanti in sicurezza prima di tutto e con gli obiettivi poi raggiunti e questo appunto vale in tutti gli ambienti la prima squadra il primo team che noi incontriamo quando nasciamo è la famiglia perché anche la famiglia è un team in cui tutti quanti i membri della famiglia devono collaborare per avere una vita serena sicura e di successo e poi appunto nel mondo del lavoro nelle aziende e quando non funzionano queste cose è perché manca appunto questo spirito di corpo questa volontà di lavorare di squadra e poi cosa succedono succedono le catastrofe succedono anche gli incidenti succedono le emergenze che è un altro capitolo molto importante del libro in cui emergenze come uno è abituato a parlare di emergenze appunto con gli aeroplani perché è chiaro noi abbiamo le emergenze le procedure siamo addestrati ma i concetti che il comandante ingenito ci racconta ci sviluppa nel libro sono applicabili lui stesso ci spiega appunto che sono applicabili nella vita quotidiana e questo è il bello del libro che lui ci dà degli esempi delle tecniche ci spiega in cui appunto delle tecniche che noi piloti anche usiamo sia militari che civili possono essere adattate alla nostra vita quotidiana appunto la vita quotidiana tutti i giorni nella famiglia nelle aziende e che possono aiutare a risolvere i problemi e a superare appunto momenti critici in aviazione noi usiamo un principio molto importante una tecnica che in inglese si dice aviate navigate communicate che per dirlo appunto poi con le parole del comandante ingenito come possiamo trasformare questo in inglese in italiano e applicato alla vita di tutti i giorni aviate navigate communicate significa prima agisci poi orientati e infine chiama a casa cioè cosa significa poi di questo in particolare di come risolvere le emergenze di come affrontare le emergenze in parallelo tra l'aviazione e la vita quotidiana vorrei parlarne in un video apposito ma in sintesi cosa significa prima agisci cioè quando c'è un'emergenza quando c'è un problema prima prenditi cura del problema in sé per isolarlo per stare in sicurezza poi orientati cioè dove sei dove stavi andando in che direzione stavi prendendo così come anche parlando di aziende che è uno dei punti focali del libro del comandante ingenito in cui appunto dice c'è un problema enorme in un'azienda ok localizzato bloccatelo si ferma ok ora siamo qui ora qual è l'obiettivo a cui stavamo tendendo che direzione stavamo prendendo ok adesso andiamo verso quella direzione e poi chiama a casa cioè dopo si può parlare si può chiedere aiuto invece spesso vediamo anche nei film che al primo problema una persona per strada la prima cosa aiuto aiuto si chiama aiuto la chiamata la polizia quello viene dopo prima bisogna isolare il problema mettersi in sicurezza continuare verso la direzione così sta andando l'obiettivo che si sa perseguendo e poi si comunica e si cerca aiuto e comunque ora questo in sintesi ma insomma nel libro troverete tantissime pagine in cui queste tecniche sono spiegate in maniera più dettagliata e che trovo che sono utilissimi veramente per tutti e l'ultimo principio di cui volevo parlarvi e che appunto nel libro è raccontato molto bene è quello della resilienza no che cos'è la resilienza e andiamolo a cercare nel libro a pagina 49 vedete la resilienza è la capacità di resistere recuperare adattarsi e crescere di fronte a fattori di stress e richieste mutevoli è ciò a cui dovrai fare appello quando affronti una circostanza imprevista che cambia la vita alla quale non eri preparato non hai visto arrivare e probabilmente non hai causato attraverso nessuna tua azione qual è il principio è che la vita è difficile la vita è piena di difficoltà piena di ostacoli è piena anche di cattive persone che noi incontreremo inevitabilmente per cui l'illusione di poter pensare che la vita sarà facile che tutto sarà agevole che tutti ci aiuteranno è purtroppo una fantasia la realtà è diversa e dobbiamo avere la consapevolezza di sapere appunto che queste difficoltà prima o poi arriveranno in un certo numero in una certa quantità in forme che magari non ci potevamo neanche aspettare e l'unico modo per poterle affrontare è innanzitutto appunto esserne consapevole prepararsi come facciamo noi piloti noi ci addestriamo alle emergenze e anche le persone comuni anche tutti quanti noi possiamo anche prepararci ad affrontare tutte queste problematiche con libri per esempio come questo dove ci spiegano tantissime anche tecniche proprio per poter capire noi stessi e appunto essere i piloti di noi stessi per pilotare la nostra vita essere in grado di affrontare le difficoltà che inevitabilmente incontreremo gli ostacoli che ci troveremo davanti le persone che ci vorranno ostacolare in modo tale da avere i nostri obiettivi davanti a noi e raggiungerli senza problema e in serenità e con la soddisfazione anche perché io sarei voluto stare nei panni del comandante in gerito il giorno in cui ha conseguito il brevetto di pilota della marina con la qualifica della porta aeree la terra porta aeree c'è un risultato incredibile e che non è stato facile assolutamente infatti il comandante ci racconta spessissimo lui ha pensato che forse non sarebbe arrivato alla fine forse ogni volo poteva essere l'ultimo però però ci ha provato innanzitutto cosa ha fatto ha deciso di mettersi in gioco prima di tutto e poi con tanta capabilità tanto coraggio tanto teamwork e tantissima resilienza è arrivato alla fine e ora siamo anche molto fortunati perché tutta questa storia la possiamo leggere ce l'ha regalata in questo libro fenomenale di cui possiamo appunto trarne tantissimi benefici tutti quanti e ora prima di salutarvi ho una piccola sorpresa per voi perché c'è un messaggio del comandante in genito per voi ciao e al prossimo video un caro saluto a tutti complimenti Ivan per la tua rubrica che seguo con molto interesse grazie per la recensione sono onorato delle tue parole hai centrato perfettamente il messaggio del libro che è rivolto soprattutto alle nuove generazioni mai mollare i propri sogni io ho cercato di trasmettere le mie esperienze con le emozioni di un giovane che doveva affrontare un mondo nuovo lontano da casa e a quell'epoca non esisteva internet ma i valori e le prove sono tuttora in vigore la vita soprattutto oggi ci mette sempre alla prova con situazioni nuove e impreviste a qualsiasi età quindi mi auguro che il libro sia di vostro gradimento e utile per i vostri obiettivi qualunque essi siano non solo quindi per il mondo aeronautico auguro a tutti una buona lettura e ancora grazie al comandante Ansellotti per la sua recensione grazie a tutti